Abbiamo invitato ospite in studio Guido Cerrato, che è dirigente della Camera di Commercio che si occupa proprio dell'area sviluppo del territorio. Eccolo in studio. Buongiorno e benvenuto. Allora, noi vogliamo parlare con lei di tutto questo mondo che ruota intorno alla musica. Sappiamo, per dare qualche dato, che sono 1300 le aziende in Piemonte che si occupano, per così dire, di musica e dintorni. Sono una piccola parte rispetto ai vostri iscritti, però queste aziende in realtà hanno un ruolo fondamentale per la nostra società. Perché? Sì, sono 1300 imprese in Piemonte, più o meno Torino e provincia ne rappresentano il 55%. Insomma, noi riteniamo che al di là dei numeri che rappresentano ovviamente un di cui è abbastanza basso, delle 220 mila imprese della provincia di Torino, però sono un settore estremamente importante per quello che ha rappresentato e rappresenterà il mondo musicale, che non riguarda soltanto la musica in quanto attività di produzione e commercializzazione, ma tutta una serie di servizi che ruota intorno all'attività musicale, che grazie anche alle nuove tecnologie tende e tenderà a incrementare sempre di più il ruolo e il peso nell'economia territoriale del settore. Fra l'altro l'Istat ci dice che il Piemonte rappresenta l'8% degli eventi musicali italiani. A me pare tanto, insomma, è un bel risultato. Questa mattina sui giornali si immagina anche di riportare un concerto annuale a Torino. Insomma, questa manifestazione ha creato tanto fermento, tante idee? Sì, questo non è casuale, nel senso che Torino e Piemonte in generale ha tratto più della media nazionale attività musicali. La musica è sempre stata importante per Torino e sicuramente quello che sta accadendo, che tutti stiamo vedendo in questi giorni, è un buon viatico per far diventare la musica sicuramente un elemento economico, ma anche un attrattore turistico e di marketing territoriale assolutamente importante. A proposito di attrattore, abbiamo visto al di là del Palo Olimpico e al di là del Parco del Valentino, che sono le due aree dove insomma si svolgono i concerti, quelli di Eurovision e quelli per la popolazione, però abbiamo visto davvero le strade di Torino in fermento. Per noi è andato Magdi a B a raccogliere qualche voce, vediamo. Torino è più piccola rispetto ad altre città nel passato, passeggi ed incontri amici che non vedi da tanti anni, perché siamo tutti appassionati di Eurovision. Si sente tanto parlare dei torinesi, noi veniamo da Venezia, ma una città accogliente, cioè è bello ogni tanto stupirsi di quello che si pensa. Una città diversa, non solo per il caldo fuori stagione, ma per una nuova energia figlia dell'Eurovision. Dopo la festa al Paro Olimpico e davanti ai megaschemi dell'Eurovillage a Valentino, è la partecipazione a fare la differenza e a rendere memorabile questa settimana. Chi arriva a Torino non si limita alla musica, ma vuole scoprire qualcosa in più, una missione per molti compiuta. Noi siamo delle guide turistiche culinarie, portiamo i turisti a fare questi giri e la maggior parte di loro comunque vedono la città che prima non conoscevano, come una città piena di cultura, turismo, è una cosa che si sta ampliando e sta crescendo, diciamo in questo periodo proprio per l'Eurovision. Ieri sera sul palco del Valentino si sono esibiti Bianco e la Banda Cadabra, artisti di Torino, anche loro colpiti dalla nuova allergia della città. Sarà una cosa importante da raccontare magari a mio figlio che adesso ha tre anni, che quindi ne avrà 18 e magari sarà una cosa divertente da ricordare. Erano cinque anni che non veniva mentato un palco pubblico all'aperto, popolare all'interno della città, in mezzo c'è stata una pandemia, cos'altro devo chiedere? Allora, fra tanta musica però che arriva a Torino abbiamo sentito nel servizio, vuole scoprire qualcosa in più e non solo lo scopre, lo racconta sui social, stiamo veramente vedendo rimbalzare enogastronomia, bellezze artistiche, cultura su tutti i social. Questo è un elemento fondamentale, che al di là dei numeri che abbiamo citato prima, che sono ovviamente un piccolo dell'economia del territorio, però questo è un settore ed è un'opportunità per essere presenti sul web, sui social. La cosa più importante non sono soltanto i numeri che stanno rimbalzando sui social, ma anche che la maggior parte di questi dialoghi che stanno avvenendo avvengono all'estero e quindi, come si diceva, è sicuramente un'occasione eccezionale per essere visibili anche al di fuori dei confini nazionali. Per essere visibili e per rendere il Piemonte attraente anche dal punto di vista delle tante maestranze che ruotano intorno a questo mondo, voi avete organizzato i Music Talk, che cosa sono? I Music Talk sono una serie di incontri, quattro per la precisione, che raccontano il mondo della musica e la filiera della musica per offrire anche delle visioni di quelle che sono le professioni che ruotano, che potranno ruotare intorno alla musica, come accennavo prima, sfruttando le opportunità della tecnologia e che però danno ancora più occasione di rimarcare come questo settore sia un settore che non solo è importante per il territorio, ma anche ha un elevato potenziale. Oggi pomeriggio in particolare c'è uno molto interessante. Sì, parleremo poi di utilizzo della tecnologia e anche di aspetti legati agli NFT, non-functional token, quindi aspetti molto tecnologici. Tecnologici e molto interessanti per gli addetti ai lavori, ma non solo, ci sono tanti appassionati. Comunque il lungo pomeriggio pieno di eventi che poi porta alla serata in musica al Parco del Valentino e porta alla semifinale di stasera. Dunque in bocca al lupo anche per tutti questi eventi, qual è il vostro più grande auspicio? L'auspicio è che veramente questa sia l'occasione per innanzitutto consapevolizzare un ennesimo alto potenziale del territorio e che ci dia la spinta per essere più visibili a livello nazionale e anche internazionale. E con questo auguro la ringraziamo Guido Cerrato, Camera di Commercio di Torino.